Ci siamo riuniti qui per dare una ripulita, per riqualificare il mercato ortofruttico e dare un segnale all'amministrazione che dice alle nostre accuse che noi acquisiamo l'amministrazione che è latitante. L'amministrazione invece risponde che arrivano qui tre volte a settimana. Se voi guardate, vi fate un giro, vedete se queste sono aree che vengono pulite tre volte a settimana. Posso riuscire a capire i problemi che ci sono con gli impiegati del verde pubblico, posso capire di tutto. Però quest'area qui non si pulisce come minimo cinque anni, perché abbiamo trovato di tutto. Siamo ancora agli inizi ed è dalle due di pomeriggio che lavoriamo, sono le quattro. Quindi speriamo che questo sia un segnale positivo, che positivamente venga recepito anche dalle persone, dai lavoratori, dagli addetti al mercato ortofrutticolo e soprattutto a coloro che ne usufruiscono, quindi alle persone che vengono a portare qui la merce, che non vengano più a scaricare qui cumuli di spazzatura e residui di ortaggi all'uscita del mercato. Speriamo di dare un segnale positivo e soprattutto un segnale come segno di riappropriazione di un bene comune, che oramai a quanto pare è perso. Ma noi non siamo abituati a provocare, noi siamo più che altro abituati a segnalare, ad agire e soprattutto a proporre. Quindi noi quello che proponiamo è di stare più attenti, di avere più attenzione a questo bene, perché alla fine se un cittadino vive in una discarica non può fare altro che trattare quel posto come una discarica.